Grazie alla città di Siracusa, alla regione siciliana e a tutti quelli che hanno contribuito con la loro presenza da tutta Italia a spese loro a rendere questo momento così straordinario. Divinazione dall'Expo abbinata al G7, un momento che di solito è chiuso e che abbiamo voluto aperto perché tutti potessero dire alla loro, perché tutti potessero far vedere quello che hanno costruito nel tempo, quello che l'Italia è riuscita a costruire nel tempo grazie a contaminazioni di tante culture in tremila anni che però ci rendono unici. Grazie ai residenti che hanno dovuto sopportare qualche asperità ma avranno la soddisfazione di sapere che il mondo parla di Siracusa, parla di Ortigia, parla di una città straordinaria. I siciliani che hanno sofferto in questi mesi una siccità difficile da sostenere, in particolare per il mondo agricolo, però devono sapere che noi valorizziamo quello che loro realizzano e lavoreremo anche per cambiare rotta a chi per tanti anni non ha fatto quello che doveva, lasciando le infrastrutture chiuse o addirittura non realizzandole. E ovviamente tutti gli italiani che voglio ringraziare perché hanno creato quello che siamo, i nostri padri, le nostre madri, e che ci hanno messo in condizione oggi di dover essere consapevoli che quello che abbiamo trovato, grazie al loro lavoro, lo dobbiamo trasmettere ai nostri figli, migliore di come oggi lo abbiamo. Ed è questa la speranza che nasce ancora una volta in Italia, in questa culla magnifica di civiltà, ma anche qui, in Siracusa, in Ortigia, dove credo tutti abbiano potuto respirare il sistema Italia. Quello che sappiamo fare, quello che sappiamo dare, non solo nel confronto con i paesi più ricchi, tra quelli democratici, ma anche con un rapporto importante e forte con il continente che è di fronte a noi e che con noi deve crescere per garantire a loro autosufficienza alimentare, crescita della ricchezza, a noi nuove prospettive, nuovi mercati, in un clima che permetta anche di risolvere tante criticità del pianeta. Vogliamo un mondo migliore e non si può chiacchierare, fare gossip, pettegolezzi, bisogna lavorare a questo scopo. E questo è quello che facciamo ogni giorno.